Musica Bella ragazzi sono Daryl e bentornati sul canale di Grannas Siamo qui con un nuovo video E prima di cominciare vorrei un attimo a vedere la rosa Questa è la rosa che ho Come vedete mi sono fatto un po' di giocatori IF Mi sono fatto Puffon IF, Maicon IF, Asamoah IF Poi c'ho anche Benatia che adesso li mettiamo in campo E c'ho il pezzo grosso, eccolo qua, Balotelli Che l'ho pagato un boato, ma è costantemente troppo E non mi sono regolato infatti E poi vabbè mi mettiamo in campo del sciarabio Quindi noi andiamo a giocare una partita con questa squadra Questa squadra, diciamo quasi la squadra più forte anche sulla Samoa Io sto in prima divisione E allora vediamo, ho fatto un punto, si ho fatto una partita sola E ho perso E ho pareggiato, nel caso sto di Quindi questa qui è fondamentale vincerla Perché sono quattro volte che riprovo la divisione Ma quattro volte che non riesco a vincere Oh, finalmente ho trovato la partita Eccolo E possiamo finalmente giocare Ci ho messo tre ore per trovare la partita Vediamo un po' la squadra di questo Vabbè, è tutta francese, ha fatto una nazionale A parte, non si sa perché quel company lì Messo in mezzo Coraggio a tutti sti francesi Vabbè, è una squadra normale Niente di che, la possiamo batte Dai, ma di solito quelli che stanno in prima divisione E c'hanno le squadre scarsi Sono fortissimi Quindi ho un po' paura Comunque dai, speriamo bene Subito col bug, sta merda No, non ce posso credere Ma che cazzo è? Cioè, ma è uscito da solo poi il portiere Cioè, non l'ho fatto scio Vabbè, queste cose ne sopporto, regà Sti bug del cavolo E via sta palla, su Comunque, per chi non avesse il mi piace sulla pagina Facebook E quindi, sicuro non l'ha letto Il post che ha fatto Xenic Penta scritto che lui mancherà sul canale Per un periodo Forse per tutta l'estate Non sappiamo bene quando Perché l'hanno presa a lavorare fuori Roma Quindi, non è proprio Non è proprio possibile fare video Perché non sta in un posto dove non può fare video Sta in mezzo alla giungla, sì E, oddio E avrà pochi giorni liberi per tornare Quindi, se riusciremo Faremo dei video Quando lui avrà i giorni liberi Se no Se no, otterrò il canale solo io Per questo periodo, appunto Spero che mi continuiate a seguire Anche senza di lui Che non ve ne andrete tutti E niente E porca troia Ecco che succede a parlare di Xenic Ok, consigliatemi un attimo Che giocatore vorreste per il prossimo Pink Slips Perché lo faremo in questa settimana Tenetevi su un prezzo, appunto, di Sui 50.000 Così, intorno ai 50.000 Non di più Che poi lo metto in palio Ho messo in palio qualità serie A Perché penso che Sia la squadra più economica da farla Da fare E quindi possono essere utili Alla maggior parte delle persone I quelli della serie A Per questo l'ho fatto Poi, se magari volete qualcuno estero Fatemi sapere nei commenti Commentate con il giocatore Che vorreste vedere nel prossimo Pink Slips E niente Questo so Prova soltanto a segnare così Col bug di testa Tanto gli andrà bene Gli ha già andato bene una volta Una volta ho parato Solo così Vabbè, oggi non c'è stoppe niente Cioè, sta partita Se hai in coi, copri proprio per culo Corri di Natale Eppure di Pasqua Visto che stanno con tema Ma è palacio che ci ha fatto il regalo Ma notè lì No che Fai così C'è il pareggio Con annesso regalo Grandissimo Ok ragazzi, questo qua lo odio particolarmente Non so perché ma lo odio veramente Questo qua Dai così andiamo al coso Come cazzo si chiama all'intervallo Tutti avvenuti e caldo No, vabbè, dai Ma che cosa era Ma esce a Raui Guarda che è partito palacio Vai palacio Vai palacio Metti in mezzo Che coi del cazzo Che coi del cazzo Che coi del cazzo Ma vabbè, che coi del cazzo Mamma mia che culo ragazzi Mamma mia Mamma mia Mamma mia Tutto ribaltato E beh, avevo detto che se vincevo sta partita Vinceva a culo Oddio Non è andato a farlo Senti tutti Che sta a fare dei regali assurdi Vai Maicon Palla per palacio Vai così ancora per palacio Vai palacio Vai palacio Vai palacio Il tiro Sbagliato Maicon Rete Rete C'è il 3 a 1 Vai così Oh, oh Questo non se ne può nacqueci, eh Oh Porca puttana Porca puttana Cristo Dio Cristo Cristo Mo' tocca soffri Sti ultimi 5 minuti Tocca soffri Benissimo Vai il sharawi Vai per di Natale Guardati, eh Guarda come va a finire Guarda come va a finire Vai, che lini Il sharawi Ancora per Balotelli Vedi che è parte di Natale Ma non gliela da Gliela da il sharawi Vattene in porta Vattene in porta Vattene Il sharawi Dai, ma che te sei magnato Pure il portiere ha fatto salire Oddio 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 Fuori Palla per Balotelli Vai Balotelli Che andiamo a segnare Fanculo 4 minuti Sono troppi Sono troppi E finisce qui Vai così Vinciamo E andiamo a 4 punti Dai Beh ragazzi Anche per questa volta è tutto Vi ricordo di passare sulla pagina Facebook E bella Vi ricordo di passare sulla pagina Facebook Vi ricordo di passare sulla pagina Facebook E per la 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 pagina Facebook